I disturbatori. Non sono così terribili come possono sembrare, ma è fondamentale saperli gestire, altrimenti possono diventare un incubo. Innanzitutto perché possiamo incontrarli nelle nostre presentazioni? Ci sono vari motivi. Raramente si tratterà di qualcuno che ce l'ha con voi. Più spesso è qualcuno che ce l'ha con cosa voi rappresentate, la vostra idea, magari la vostra azienda o la vostra organizzazione. In altri casi è qualcuno che è geloso del vostro ruolo e vuole semplicemente dimostrare che ne sa quanto vuoi o addirittura più di voi e dovrebbe essere lui a fare la presentazione. Altre volte ancora è qualcuno che magari ha un'agenda, ha qualcosa in mente, magari si tratta di un'unione con diverse persone della stessa azienda e nel pubblico è seduto magari il suo capo e vuole dimostrare qualcosa attaccando voi. Quindi la maggior parte dei casi non è un attacco.